La drammatica condizione del Consorzio di Bonifica numero 8 di Ragusa ha indotto il sindacato CGL e quello della UIL a rivolgersi al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana. A Gianfranco Miciche viene rappresentata la ormai indeferibile e urgente necessità di poter avere in tempi brevi la possibilità di un incontro affinché si possa esporre il quadro reale di quanto sta accadendo ormai da troppo tempo a Ragusa dove i lavoratori permangono in uno stato di protesta morale ed economica perché non ricevono da parecchi mesi le spettanze maturate. Nella nota inviata al Presidente dell'ARS vengono delineate le tipologie di lavoratori in forza nel Consorzio e cioè lavoratori con nove mesi di stipendi ad oggi non liquidati, lavoratori cosiddetti sentenziati nel senso che i loro rapporti di lavoro sono stati trasformati a tempo indeterminato a seguito di sentenza del giudice con venti mesi di spettanze non percepite e infine lavoratori delle garanzie occupazionali con sei mesi di emolumenti non pagati. Le passate azioni tese a individuare strumenti e scelte finalizzate a mettere in sicurezza lente i livelli occupazionali, dicono i segretari dei due sindacati, Salvatore Terranova e Giovanni Avola, non hanno portato gli effetti da noi sperati sia perché, riteniamo, non ci sia stata volontà politica prima e poi gestionale di recuperare i consorsi di bonifica alle loro finalità liberandoli da un controllo che ne hanno vanificato l'importante ruolo che essi avrebbero dovuto assolvere per lo sviluppo del territorio. La nostra opera sindacale, concludono CGL e Will, non si è limitata alla sola difesa dei diritti dei lavoratori, ma si è concentrata soprattutto nell'intento di portare al confronto in sede regionale elementi di proposta per riorganizzare e risanare un ente fondamentale per il territorio a forte valenza agricola.